Analizziamo un po' il campionato, questo Napoli sembra viaggiare con una velocità elevatissima, lo Scudetto a questo punto può perderlo solo la squadra di Spalletti? Ma è ancora presto, prematuro, però credo che Napoli dopo la sconfitta con l'Inter sia ripartita la grande, la dimostrazione è la partita alla Juventus dove ha fatto una partita straordinaria, un risultato straordinario, anche inaspettato e quindi è chiaro che se continuerà in questo trend di queste prestazioni e di risultati sarà difficile che possa magari non vincere lo Scudetto. Gioca il calcio più bello anche a livello europeo, uno dei più belli a livello europeo? Ma direi che ha dimostrato anche in Europa di fare grandi partite, è una squadra importantissima e credo il modo di esprimere calcio oggi del Napoli sia all'avanguardia e sia uno dei migliori, non solo a livello italiano ma anche a livello europeo. Quanto riguarda la Juventus, arrivava da queste otto vittorie, tra l'altro senza aver subito gol, otto partite senza aver subito gol, è stata una partita che ha messo a nudo parecchi difetti di Bianconeri? Ma la Juventus aveva fatto un grande recupero in queste otto vittorie senza subire gol, ha recuperato, sta recuperando dei giocatori importanti, credo sia una delle rose al completo tra le più importanti in Italia, è chiaro che senza tanti giocatori ha fatto fatica, però questa sconfitta è stata un po' pesante, però credo abbia tutti i mezzi per rialzarsi, poter ripartire anche col recupero di alcuni giocatori che si sono appena affacciati al campionato della Juve. Per quanto riguarda il Milan non ha iniziato certamente bene questo 2023, che è successo? Sta pagando probabilmente anche una sorta di eccessiva euforia legata allo scudetto, una sorta di pancia piena come ha detto qualcuno oppure magari anche dal mercato ci si è aspettato di più? Ma con la Roma è sembrata più causale, insomma la partita, la prestazione l'avevano fatto, poi ha subito questi due gol su palla in attiva, ma insomma stava dimostrando di essere in palla. La partita con il Lecce, sicuramente bisogna dare grandi meriti al Lecce, l'ha interpretata veramente bene, però insomma forse l'inizio del primo tempo è stato preso un po' in sufficienza, non pensavano al Lecce così in forma, così determinato e hanno pagato questo aspetto. E poi nel calcio italiano, come si sa, non c'è mai una partita facile da vincere. Poi sono riusciti a rimediarla, però insomma dal Milan è chiaro che quando va a Lecce ci aspettiamo qualcosa di più. Adesso ci sarà anche la Supercoppa tra Milan e Inter, la squadra di Inzaghi non arriva in maniera brillantissima a questo appuntamento pur avendo vinto l'ultima partita contro il Verona. Ma credo che negli ultimi dieci ne abbia pareggiato, persa solo uno, quindi insomma è chiaro che vedendo la classifica sembra in difficoltà, ma credo che l'Inter sia ancora oggi la squadra più attrezzata per disputare questo campionato italiano. È chiaro che ha avuto diversi problemi, ha avuto qualche sconfitte troppo inizialmente, è un po' staccata da quanto riguarda la prima posizione, ma credo sia una di quelle squadre che può sicuramente fino alla fine dire la sua. Quanto riguarda l'Atalanta, si è definitivamente rilanciata anche con questo 8-2 rifilato alla Salernitana? L'Atalanta è una squadra forte, una squadra che tutti gli anni pratica un bel calcio, lancia tanti giocatori, scopre dei giocatori importanti, anche di sera ne abbiamo visti alcuni e credo che questo risultato dà ancora più convinzione all'ambiente, all'allenatore, per disputare un campionato importante come ci ha abitato negli ultimi anni dell'Atalanta. La ex viola invece cosa pensi della Fiorentina, di queste difficoltà, tante polemiche per anche un mercato che non è stato all'altezza della situazione? In questo momento è un po' di difficoltà, aveva finito il campionato in netta ripresa, poi non lo so le motivazioni che bisogna essere all'interno per capire bene le vere problematiche. Ha avuto qualche difficoltà di risultati, ha fatto delle buone prestazioni e altre meno, però credo abbia tutti i mezzi per poter rientrare in un discorso più importante. E' chiaro che se l'allenatore e la società hanno visto che ci sono dei giocatori magari che non hanno reso quello che si aspettavano o staranno attenti penso a quello che sarà il mercato che è appena iniziato per completare la rosa e per rendere la squadra ancora più competitiva. La lotta a salvezza invece come la vedi? Ci sono stati anche dei cambi in panchina, tra questi la Cremonese che ha deciso di sollevare Alvini sostituendolo con Ballardini. Ma in questo momento è abbastanza delineata, è chiaro che stasera c'è un'altra partita in Polisandoria, è importante, però insomma queste tre squadre, Verona, Cremonese e Sandoria, sono staccate con diversi punti dalla quarta ultima. E' chiaro se vogliono invertire il trend, oltre al cambio dell'allenatore che ad oggi l'hanno fatto tutte e tre, credo ci sarà bisogno di poter potenziare queste squadre per poter rientrare in un discorso e lottarsi la salvezza fino alla fine. Il tuo futuro? Il mio futuro mi auguro di poter rientrare presto, è chiaro che stando fuori non si vive con grande serenità, ma questo fa parte del nostro mestiere, mi auguro che presto ci si possa essere una società che mi possa affidare gli obiettivi che si è prefisso di questa stagione. Ci sono stati dei colloqui, degli appuntamenti magari nel recente passato che hai avuto con qualche squadra? C'è stato avvicinamento a qualche squadra, accostata a qualche squadra anche importante, però in questo momento per un motivo più alto non si è mai arrivata l'inclusione, mi auguro che presto possa accadere anche questo. L'ultima considerazione sul Nainggolan, come lo vedresti un suo ritorno al Cagliari? Lo vedrei in maniera positiva perché conosco il ragazzo, come è stato l'ultimo anno che c'è stato, ha fatto molto bene e mi auguro che possa ritornare, che lui in quella piazza sicuramente riesce a dare tanto e mi auguro che possa concludere in migliori modi questa eventuale trattativa del suo ritorno. Donieri l'uomo giusto per il Cagliari? Credo di sì, abbia l'esperienza, la forza di poter portare avanti un certo tipo di discorso, credo la squadra fosse già competitiva, vedo che leggende giornali stanno cercando di completarla, e quindi credo che presto la rivedremo nelle prime posizioni.